Io e il mio papà è l'evento organizzato su iniziativa del Soroptimist Club di Gela preseduto da Maria Grazia Falco Neri che offrirà domani in occasione della festa del papà ai detenuti della casa circondariale di Gela di trascorrere all'interno della struttura qualche ora con i propri figli. L'amministrazione penitenziaria è attenta ai bisogni dei bambini, non dimentichiamo che ogni genitore qui vive nel momento della restrizione e anche questa ulteriore afflizione, afflizione che non deve essere vissuta dai bambini. Per quanto c'è possibile, questo sarà un momento al loro dedicato, è un loro diritto, è un esercizio del loro diritto ed è per noi un piacere consentirlo. Da dove è nata l'idea di realizzare questo evento? L'idea è nata dal disegno più generale che noi avevamo come club, come Soroptimist, di intervenire all'interno delle case circondariali in genere. E quindi alla fine abbiamo pensato di organizzare appunto una giornata di incontro con i bambini dal momento che il nostro club si occupa dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori. E quindi abbiamo ritenuto opportuno e importante regalare una bella giornata ai bambini che non devono vivere la condizione di papà che appunto non vedono e che si trovano in una condizione di detenzione ma che loro però non comprendono nemmeno. I soggetti coinvolti saranno impegnati in attività laboratoriali per la creazione di piccoli lavoretti realizzati dai bambini insieme al loro papà. Le attività saranno coordinate da Paola Rinciani. Ci sarà una parte dedicata al gioco, quindi al gioco di gruppo con giochi classici che tutti conosciamo, il gioco della bandierina, il musichiere, una parte invece dedicata a dei laboratori dove io in maniera anche molto libera consegnerò loro cartoncini, cartabelina, colori e insieme al loro papà potranno realizzare un'opera che potranno lasciare anche come ricordo della giornata trascorsa assieme.